Ragazzi buongiorno a tutti bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi primo agosto 2022, bitcoin 23.200 dollari in questo momento. Quindi ragazzi guardiamo insieme la situazione, come si è aperto il mese di agosto iniziato nella giornata odierna, quali sono i livelli più importanti da monitorare proprio per questo mese. Guardiamo poi il time frame settimanale per commentare invece la chiusura della settimana appena trascorsa, guardiamo il DXY che finalmente cede un po' di spazio e poi guardiamo velocemente anche quanto possiamo aspettarci dalla giornata di oggi. Quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi quello che vediamo qui è il time frame giornaliero di bitcoin, voglio mostrarvi quelli che sono i livelli più importanti del mese di agosto, il mese appena iniziato, guardando i livelli orizzontali che guardiamo solitamente. Quindi quali sono le notizie positive relativamente all'inizio del mese di agosto? Allora sicuramente possiamo notare che questi qua sono i livelli del mese attuale, quindi il CPR, il Central Pivot Range del mese di agosto è un range che va dai 21.700 ai 22.700 con un Central Pivot, questa linea bianca tratteggiata che vedete, che si trova a 22.200 dollari. Quindi apriamo il mese di agosto al di sopra del Central Pivot Range, quindi siamo al di sopra del supporto, quindi per adesso il mese da questo punto di vista apre in maniera rialzista. Siamo inoltre al di sopra delle medie mobili che vedete qui del William Alligator, quindi siamo sopra il supporto orizzontale del mese di agosto e siamo sopra anche le medie mobili del William Alligator. Una situazione che è relativamente nuova per Bitcoin, nel senso che sia nel mese di luglio, come vedete chiaramente, ma anche nei mesi precedenti, il prezzo non riusciva a spingersi o restare al di sopra del Central Pivot Range o comunque al di sopra delle medie mobili. Infatti i mesi erano ribassisti, quindi per adesso iniziamo il mese in maniera leggermente diversa, più promettente per i bulls. Quindi quello che vogliamo che accada è che Bitcoin eventualmente ritesti questa zona, quindi è molto probabile che il prezzo scenda almeno a ritestare la parte più alta del Central Pivot Range, che si trova al 22.700, trovi eventualmente il supporto e poi vada all'attacco eventualmente del livello R1 del mese 25.700 o R2 del mese 28.100. Lo scenario sarebbe diverso nel caso in cui venisse invalidato ovviamente lo scenario rialzista. Se perdiamo la parte più bassa del range, quindi 21.700, a questo punto potremmo andare a finire sui supporti del mese. Quindi abbiamo S1 19.700 e invece S2 16.300 dollari. Quindi comporterebbe vedere Bitcoin creare dei nuovi minimi. Quindi vediamo un po' se Bitcoin dovesse scendere, passare attraverso il range, magari utilizzarlo come resistenza. A questo punto potremmo andare a finire eventualmente sia ad S1 che ad S2. Quindi monitoriamo insieme tutta questa zona che dovrebbe funzionare come punto di supporto. Inoltre vi ricordo che abbiamo qua sotto in arrivo potenzialmente l'incrocio dell'Hash Ribbon, quindi le medie mobile che compongono l'Hash Ribbon, storicamente un segnale molto importante. Quindi quando dovessero incrociarsi e magari ci verranno ancora un po' di settimane, potremmo effettivamente dire che il bottom in qualche minimo ce lo siamo messi, in qualche modo ce lo siamo messi alle spalle. Incrocio che potrebbe arrivare dalla metà alla fine del mese di agosto. Poi ragazzi guardiamo invece il settimanale, interessante perché Bitcoin chiude la candela settimanale sopra la media mobile delle 200 settimane. Vedete che abbiamo chiuso leggermente al di sopra e storicamente quando Bitcoin riesce a chiudere al di sopra delle 200 settimane, di solito anche qui il minimo è già stato fatto e quindi fatto salvi piccoli ritracciamenti, Bitcoin è comunque pronto a creare un nuovo trend rialzista. Quindi vediamo un po' se ricadremo con una chiusura settimanale all'interno di questo range che delimita, che si trova tra le 300 settimane e le 200 settimane. 300 settimane, 17.100. Vi ricordo che da molti anni a questa parte, direi dal 2015, Bitcoin non ritesta la media delle 300 settimane. Vediamo un po' come si comporterà il prezzo. Guardiamo ragazzi anche il DXY perché come indicatore che va in controtendenza rispetto a Bitcoin, finalmente il DXY cede un po' di terreno e questo dovrebbe favorire i risk asset, quindi sia Bitcoin ma anche eventualmente l'azionario. Vediamo che c'era una divergenza molto importante tra il prezzo e la RSI con ulteriormente un movimento parabolico del prezzo, per cui a un certo punto le parabole sono sicuramente destinate ad interrompersi. E in questo caso sembrerebbe che la parabola del DXY sia stata violata con il recente ribasso del DXY. Quindi vediamo un po' se dovesse essere confermata la violazione di questa parabola, potremmo vedere un ritracciamento del DXY eventualmente fino al livello dello 0,61, quindi intorno al livello dei 96, quindi più o meno in questa zona. Il che favorirebbe e non poco Bitcoin e anche tutti i risk asset. Inoltre ragazzi guardiamo sul giornaliero, quindi quello che possiamo aspettarci dalla giornata di oggi. Come vedete la giornata è ribassista, quindi siamo sotto il range. I target ribassisti della giornata sono 22.900 ed eventualmente 22.600, fatto salvo che Bitcoin non si riesca a spingere al di sopra del range. Quindi però per adesso la giornata è ribassista, quindi siamo sotto il range, questo, e siamo sotto anche le due medie mobili. Se volete utilizzare un'ulteriore conferma oltre i livelli del range potete utilizzare due medie mobili. In questo caso sono Smooth Moving Average, quindi SMA, sono le 200 periodi e i 100 periodi. Quindi un'ulteriore conferma del trend, perlomeno sui 15 minuti, è sotto il range e anche sotto le principali medie mobili. Quindi la giornata resta ribassista, fatto salvi la invalidazione dello scenario bearish. Quindi ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, guardate i referral link in descrizione, Bybit e Tricommas. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!